ciao a tutti io sono sempre chloe e qua abbiamo un pacco che hanno usinato i miei genitori mentre io ero a scuola qua sopra c'è scritto mga toys io non so esattamente cosa ci sarà all'interno e sono molto curiosa qualcosa di bello ovviamente adesso basta con le ciance e adesso è il momento di aprire adesso apriamo si vede già l'old surprise omg ok questo così questo così un pezzo di scatola è bellissimo allora aspettate che vado un po' ma dai che bello guardate all'interno ci sono tutte queste cose all'inizio un aereo per le omg togliamo via la scatola delle omg da questa scatola di cartone di no per le omg adesso ok ok è caduto il cartone lol omg aereo ma dai è troppo bello non vedo l'ora non vedo l'ora ok qua va bene ok ok qua qua butto questo cartone butto questo cartone butto questo cartone adesso tiriamo fuori oh wow guardami che aereo lo sapevo ok togliamo via questa cosa qua e poi tiriamo fuori via l'aereo ok qua abbiamo l'apertura guardate che bello guardate che bello questo è tutto l'aereo delle omg remix io non ci credo che ce l'ho in mano ma dobbiamo adesso scoprire come si apre devo dirlo è molto pesante però ho notato una cosa dentro la loro scatola c'è qualcos'altro qua vediamo un po' ok c'è qualcosa qua vediamo oh si questo qua serve per attaccarlo da qualche parte e poi fa il vento e può volare via l'aereo non potrebbe mancare oh c'è un'altra cosa qua all'interno il manuale con gli streaker attaccabili e staccabili qua c'è la benda per gli occhi delle omg e le coperte ok adesso apriamo il manuale perché voglio capire come si apre per vedere cosa c'è all'interno ovviamente avremo bisogno della nostra tavola e ho scoperto adesso come si apre guardate allora innanzitutto qua c'è questa festura che si apre così e questo qua si fa così questa elica si mette giù io ho fatto piano perché se non si rompe e quindi questa cosa possiamo metterla giù poi qua si può aprire e c'è tutto vedete che bello vendendolo dall'alto è bellissimo quindi adesso togliamo tutto cosa c'è all'interno e facciamo aprire qua c'è questo coso che non so più cosa c'è all'interno e qua ci sono altre sorprese ad esempio tutto questo wow mettiamo da parte e vediamo cosa c'è qua all'interno si può aprire no? ok qua ci sono tutte le valigie però che sono disegnate credo che c'era qualcosa all'interno comunque così poi così così perfetto se andate proprio dentro l'aereo trovate questo che si mettono all'interno le valigie adesso guardate qua le finestre si possono aprire ok si è aperto guardate guardate si vede tutto fuori ciao si vede la mia mano adesso chiudiamo ma dov'è Marco? ok perfetto qua ci sono questi cerchietti per mettere i piatti così le OMG possono mangiare in tranquillità ragazzi guardate qua queste sedi sembrano veramente delle VIP wow guardate poi qua si possono aprire cosa c'è all'interno si possono anche mettere così per mettere i piatti sopra così le OMG che sono qua nel divano possono mangiare si può anche mettere così per guardare meglio ok chiudiamo perfetto guardate qua ragazzi qua ci sono tutte le bibite ok ma ho visto anche nella scatola che c'è una macchina che ho capito come si fa guardate vedete questo coso? ecco c'è anche qua dobbiamo tirare su tiriamo su e viene fuori la nostra macchina aspettate un attimo ok ecco qua la nostra macchina col divano voi avete mai visto una macchina col divano? io no sapete ragazzi quando andate nell'aeroporto vedete questo tipo di macchina che porta le vostre valigie ma è una cosa molto interessante perché qua si può anche piegare wow così tutti possono dormire allora innanzitutto abbiamo bisogno delle nostre forbici che eccole sono qua e dobbiamo togliere questi elastici aspettate eh uno ok questa è un'altra cosa molto interessante perché adesso il divano si può togliere adesso che non ha più gli elasticini e adesso dobbiamo togliere la plastica che è qua davanti ok tolto ok dobbiamo fare così allora visto che adesso la poltrona si può togliere ok wow oh mamma mia sono molto eccitata bene adesso vediamo cosa possono fare i sedili oh si possono togliere anche i sedili perfetto guardate possiamo girare le sedie così ok e poi questo qua e poi il divano possiamo mettere qua o qua così le sedie e il divano sotto tutti allineati perfetto questo qua è super perfetto adesso prendiamo due lil e due omg io prendo due lol ho preso questa e questa poi prendiamo due omg prendo lei ok e prendo lei ok le cinture si possono togliere vero? si visto che le cinture si possono togliere possiamo mettere così ok perfetto adesso mettiamo lei qua sempre con la cintura ok ok mettiamo la lol qua e poi questa ups lol qua che bello che bello questo gioco ok adesso mettiamo lei ovviamente togliamo la cintura ok messo guardate vanno in giro tutte insieme vanno in giro tutte insieme adesso torniamo all'aereo vediamo cosa ci sarà dobbiamo prima chiudere ok e adesso dobbiamo togliere anche questo che io so esattamente come si fa qua sotto c'è un pulsante che dobbiamo schiacciare per togliere questa parte del pilota così un due tre via ok beh diciamo wow mamma mia stava per cadere comunque si è tolto perfetto come avete visto qua abbiamo già questo che è già pronto e questo qua dobbiamo metterlo così sapete il motivo? guardate le eliche sono diventate il sostenitore questo qua viene così per mirare alla cantante però qua non c'è nessuna cantante perché dobbiamo aprire ok questa qua è la cosa più bella di tutte che bella ok qua dobbiamo mettere la nostra cantante ma questo cosa si illumina giusto? quindi proviamo a prendere una mia angi cantante prendo questa qua anche se dobbiamo cambiarle il vestito ma non importa qua c'è la plastica che dobbiamo tagliare togliamo perfetto dobbiamo tagliare anche qua che c'è una piccola plastica ok tolto perfetto ok la angi la mettiamo in mezzo ma non capisco come si accende perciò provo a cliccare il pulsante che c'è qua wow guardate che bello però i muri qua rosa e qua blu oh che bello adesso per il turbante dobbiamo cercare dov'è il suo pulsante cerco cerco c'è qualcosa qua tipo un pulsante clicchiamo oh si si è illuminato finalmente oh finalmente si è illuminato blu e fucsia come prima oh ah finalmente la 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 perfetto guardate bene guardate bene wow è bellissimissimo io andavo a mettere giù questo perché il nostro tavolo è veramente così piccolo che mentre aprire le sorpresine potrebbe rischiare di cadere e il gioco si romperebbe ok apriamo le nostre sorpresine qua e la scatola e la scatola si potrebbe capire è gigante e c'è qualcosa di durissimo anche questo wow questo e questo solo quattro sorprese non impatta allora io inizierei da questa apriamo allora e questo qua è per le omg da tenere comunque mettiamo da parte e apriamo questa sorpresina wow ma perché sono così dura all'interno ok questa è la valigia wow si apre mi sono spaventata che stava per cadere ma è si apre ed è bellissimo si alza il manico ed è anche ondoso e questo urlo era di mio fratello non vi preoccupate non c'è un mostro a casa mia bene mettiamo da parte e questa cosa qua cosa ci sarà all'interno? un'altra valigia da portare ok questa qua è blu e questa qua è rosa questo manico non si alza è così qua nella valigia blu ho notato una cosa c'è un buco un buco di una forma strana vabbè scopriremo dopo e questo qua che gigante cos'è? mamma mia ma no ma che bello è tipo una cosa dove le omg portano dentro l'aereo così possono servire il cibo ai clienti all'interno allora ragazzi mi dispiace molto però quando comprate questo aereo di omg dovete comprare omg e lol nella foto vedete un mucchio di lol surprise e omg però non ce n'è nessuna quindi dovete per forza comprarla adesso apriamo questo ok wow qua ci sono le cuffie da parlare questo qua è per le lol piccole queste qua per le omg mamma mia lei diventerà il pilota quindi mettiamo lì la cuffia ho messo ok il microfonino guardate che bella e qua abbiamo tipo degli occhiali mi sembrano degli occhiali poi qua c'è l'appoggi collo mamma mia è super morbido è è giallo fluorescente trasparente chissà se si illumina il buio poi qua c'è anche per le lol che è rosa ovviamente wow e poi hanno le orecchie da gattino non l'avevo notato qua c'è sempre la maglietta per le lol ma che ci fa una maglietta delle lol se qua non ci sono lol un ipad ah finalmente un altro ipad e questi sono due piacchi guardate ok e ho dimenticato due dettagli i due bicchieri questo è il primo bicchiere e questo è il primo microfono per inventare le canzoni ehm ah adesso ho capito dove mettere questo si deve mettere così e l'OMG canta lo 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 adesso questo microfono mettiamo vicino a quest'OMG lo 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 ah 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 ok qua c'è un altro microfono ma è piccolo che può tenere in mano un microfono così e un microfono che può tenere in mano così la 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 ok perfetto ah finalmente ok ma ci sono altre sorpresine qua ok ok adesso prendiamole guardate questa è la coperta che bellissima e poi qua c'è la benda occhi per le OMG e per le LOL una più grande e una più piccola ahahah anche per le lol e questo è la coperta delle LOL e qua ci sono gli tip che è distaccabile e riattaccabile e questo è il passaporto tadaaaan è piccolissimo Adesso abbiamo quasi finito Adesso mettiamo l'aereo Qua nel tavolo Ok Dobbiamo mettergli ora la cintura Ok Questa è la nostra ONG Dentro Cioè lei è il pilotista Ed è dentro alla sala dei piloti Lei adesso parla come un vero pilota Tutti dovete mettergli la cintura Perché tra 5 minuti dobbiamo partire Per questi 5 minuti dovete mettergli la cintura E tenervi forte Perché tra poco si parte Mamma mia che strano È buffissimo Divertentissimo Ma soprattutto bellissimo Perché uno perché devo fare la voce dell'autista Ma secondo perché loro hanno già la cintura Quindi non serviva dirlo Chiudiamo E chiudiamo anche qua Perché adesso si parte Mamma mia quanto è pesante Sì Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. E buon San Valentino!